Ciao! Se vuoi supportarmi sulla piattaforma Viola con Amazon Prime, la sub è gratuita! Oppure puoi pagarla 3,99 euro. Dai, dai, dai! Supporta un bro! La tana del frerito! Ciao, broderigno! No, è un supermercato che fa soltanto... Scusami, mamma mia, mi ha chiamato due volte. Chi? Chi? Grande! Sotto? Bro, carissimo! Ciao ragazzi, come state? Bene, tu come stai? Dai, non è inutile che ora fai finta di volerli obbedirgli bene, eh? No, no, bene, ho semplicemente sentito... mi è arrivato adesso. No! Allora... E cosa? Ah, ah, oh! Cosa è successo? Niente, niente, niente. Ah, ho capito che è successo. Ve lo dico? No, cosa è successo? Salve! Ciao! Salve a tutti, salve a tutti! Ciao, ciao Alessandro, ciao! Ciao, piacere! E ciao anche a te! Mi ricordo come ti chiami, tu? Ciao a sinistra! Che è successo? Non lo so. Cos'è che hai detto? Geser? Mi senti, no... Geser, ok, Geser, sì, non mi ricordavo come si chiamava l'altra ragazza. Ah, piacere! Piacere, Riccardo, piacere, piacere, piacere. E Alessandro, caspita, è un onore accontrarti, caspita, ti vedevo da anni su YouTube. Grazie, grazie. È un onore, davvero. Grazie, ti ringrazio. Un onore mi sembra anche eccessivo, però... Però, grazie. No, abbiamo cinque minuti. Allora, per favore, Simo, rompere i coglioni, un attimo, lo sto conoscendo. Cinque minuti. Dai, farà attaccare. Lasciagli il tempo. Sì, sì, sì. Ok, no, perché vuoi distruggermi? No, no, ti voglio distruggermi in maniera simbolica e così, no? Ok. Perché, niente, ha avuto un dibattito riguardo alla regione con Don Ambrogio e, niente, insomma, io sono campione dei pesi massimi dialettica di Lord Greenbolt, per cui, insomma, sono il più cazzotto di tutti, ecco, per cui, niente. Non è che ti ripeto, cioè, ti mi sembri una persona abbastanza intelligente, sarebbe interessante combattere dialetticamente, ecco. Ah, vuoi, ah, ok. Combattere dialetticamente. Bisognerebbe trovare un tema su cui dibattere, io, io, io... Lo stesso dell'altra volta, il tema per il quale volevo distruggerti, ho detto a Grambo di Studio, lo stesso tema che c'era con Don Ambrogio. Ok, e quindi nello specifico quale? Cioè, quello che, secondo me, la Chiesa dovrebbe diventare una content factory, di talenti, o... Che non è male con l'idea. Qualsiasi cosa ingerente alla Chiesa. Come? Scegli tu. Qualsiasi cosa ingerente alla Chiesa. Scegli tu. Il mio soprannome è il mastino della Chiesa Cattolica. Perché dicendo con la mia logica la Chiesa Cattolica, per cui, qualsiasi cosa, insomma, in dipesa della Chiesa Cattolica. Va bene, va bene, no, io ci sto, io ci sto. Scegli tu il tema, scegli tu il tema. Eh no, scegli tu, scegli tu, per quanto mi riguarda... Scegli tu, ovviamente che, insomma, tu hai trattato la Chiesa Cattolica l'ultima volta, insomma... Allora, facciamo una cosa, 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 facciamo una cosa. In questo tema, questo tema. Sembra tipo freestyle. Le tasse sugli immobili. Ok. Ok. Sugli immobili da Chiesa, ok, ok, sì, sì, sì. Non ti piace? No, se no ci vogliamo un altro. Ok. Caro, se hai detto ok vuol dire che va bene, se no non hai detto ok. No, però ti vedevo perplesso, perché dicevi ok, ma con la faccia dicevi, ah, guarda che è importante il linguaggio del corpo, eh. A volte è più importante di quello verbale. Sì, almeno tre con cazzo in verità. Almeno tre con cazzo in linguaggio del corpo, ok. Ti dico, va bene, se vuoi possiamo parlare di quello... Va bene, vai. Però se vuoi concentrato sul linguaggio del corpo, eh... Purtroppo non sono un esperto riguardo a questo. No, no, vabbè, ma figurati. Vai. Ok, e dunque qual sarebbe la tua critica all'immobile? Per quanto riguarda non c'è alcun problema. No, ma neanche per me. Buon fine. E allora non è una critica. Ma che vuol dire? E allora... Dovete essere... Dovete discordare, ragazzi, se no... E lo so, però, sei tu che senti... Cioè, Ricchi, sei tu che hai detto... Cioè, io mi aspetto che tu mi attacchi e io ti rispondo, perché io non posso attaccarti. No, no, ma io non voglio attaccarti. Io mi aspetto che tu enunci una critica della Chiesa Cattolica e io la vado a difendere. Se tu non c'è una critica della Chiesa Cattolica, eh. Ma adesso io... Allora, chiaremo una cosa. Se vi cifero. Esatto, io avevo chiesto... Sento che hai accettato di fare un combattimento riguardante il tema che hai incrastato con Zalambrogio. Minchia, c'è l'audio che sta saltando. Eh, sì, non... Di qualcosa di problema. Eccomi, eccomi. Per quanto riguarda tutto questo tuo dire, secondo me, per evitare il confronto, perché magari potresti avere un po' di paura della mia maestosità intellettuale, ecco. No, è che... Ti giuro, ti giuro, non... Mi veramente... Sono... Traduzione, ho paura, ho paura, ho paura. Ho paura, sì. Veramente, ho paura. Ma io, guarda, ti dico... Ti dico... Non ho paura della paura, eh. Ma? Vabbè. Genio, attaccalo. Certo, certo. Tu fai il content creator, fai lo youtuber, adesso ho capito il motivo. Ok, non fai di più dello youtuber, adesso ho capito il motivo. Ok, senti, allora vuoi partire con qualche critica della Chiesa Cattolica o... Cioè, puoi avere un atteggiometro a parte per il culo anche muovendo le critiche che tu pensi realmente, ok? Va bene, se vuoi... Io no, ti dico questa cosa che penso veramente, che mi... Diciamo che l'altra volta io ho questo problema, ho questo difetto. Nel momento in cui vedo che una persona, a fronte di una mia provocazione presa in giro, ci casca e quindi mi prende seriamente e si arrabbia, io sono come gli squali con il sangue. Cioè, io a quel punto vado, cioè continuo a prenderla in giro, cioè continuo ad alzare il tiro. Cosa che ho fatto con Don Ambrogio. Ho visto Don Ambrogio che si è alterato, si è messo a urlare, a dire non dire stronzate, a me quella roba lì mi ha veramente galvanizzato e mi sono divertito e sono andato avanti in quel senso. Con te questo gioco non è nato e non è in corso. Se io avessi dovuto fare davvero una critica, sarebbe stata una critica a Don Ambrogio, non alla Chiesa Cattolica. Perché io su Don Ambrogio ho delle critiche da fare, che sono critiche però circostanziate su cose che lui ha detto e fatto online e sono critiche su cui sarebbe anche interessante parlare con lui. Quindi non sono accuse, eh. Forse è con me se vuoi. Tu sei ateo? Sì. Ok, lui pensa che chiateo è un coglione. Ma... Sì. Penso che si contraddica nell'essere ateo, capisci? Ok, perché? Logicamente, perché gli atei affermano di credere solo a ciò che possono dimostrare e effettivamente non hanno dimostrato l'inesistenza di Dio. Direi ateo vuol dire essere convinti della non esistenza di Dio. Ma io credo che l'onere della dimostrazione di qualcosa sia in chi ci crede, non in chi non ci crede. Infatti, infatti, tu credi che non esista. Dimostro. No, assolutamente. Eh sì, essere ateo vuol dire credere nella non esistenza. Come tu stesso hai affermato. No, io non credo che esista. Secondo il tuo stesso principio, secondo il quale chi crede qualcosa ha l'onere di dimostrarlo. Tu credi che non esista Dio? No, no, io non credo che non esista Dio. Allora non sei ateo. Gli atei si definiscono come coloro che credono che non esista Dio. No, io non credo in Dio, capito? Allora sei agnostico e non sei ateo. No, 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 agnostico, sarei agnostico se avessi sospeso il mio giudizio, se io dicessi non lo so, non mi pongo il problema, capito? Beh, dire non lo so, dire non lo so è come dire non sai se esiste Dio, non credi all'esistenza Dio implica il non sapere se esiste. Ovviamente nessuno sa che esiste, se esiste no. Chi ci crede lo sa perché ci crede, non perché lo sa perché lo dimostra o lo vede evidentemente. Ma secondo te esiste? Sì, assolutamente. Secondo me esiste. C'è una bella raccomandazione che si basa sulla logica, che insomma valora questa mia credenza, ma di base è un dogma della Chiesa Cattolica, ecco, per cui lo credo vero per fede. E io sono contento. Ma c'è stato un evento che non ha fatto credere così. Peraltro io non solo credo vero per fede all'esistenza di Dio e credo vero per fede tutti i dogmi della Chiesa Cattolica, ma un dogma della Chiesa Cattolica afferma che tutti coloro che in qualche modo non si... non credo, non si confacciano, non si confanno, non so come dire questa parola, ai dettami etici della Chiesa Cattolica lo fanno in mala fede. Secondo un dogma della Chiesa Cattolica, a cui io credo, tutti i dettami della Chiesa Cattolica sono scritti nel cuore di tutti e ogni uomo. Per cui se qualcuno fa diversamente e insegna a far diversamente, sta mentendo in quell'insegnamento. E pertanto, tu nel non essere cattolico, io ho la convinzione che tu sia un falso, che stiamo intendo, per male che non sarebbe corretto il cattolismo. Aspetta, intendi che io nel mio cuore credo in Dio, ma non lo sai? Sì, io credo in Dio non lo so, però io penso che nel tuo cuore, nel fondo del tuo cuore, come di ogni uomo, confermi la correttezza dell'etica cattolica. Ma voglio dire, ma ci mancherebbe altro. L'etica cattolica è alla base della società occidentale, della società moderna. Implica anche il non doversi masturbare, l'affermare che è sbagliato a masturbarsi, l'affermare che è sbagliato il sesso prematrimoniale, per esempio. Anche questo sei d'accordo? Secondo un dogma della Chiesa Cattolica, nel tuo cuore sei d'accordo? Sul non masturbarsi, vorrei un attimo la tua motivazione per cui non va fatto. Vorrei saperlo, no, e dopo ti spiego il perché, dopo ti spiego il perché, sono molto curioso di sapere il tuo punto di vista. Allora, devi sapere che Gesa era un grande teologo, eh. Sono un grande masturbatore. Anche probabilmente, non lo so. Beh, banalmente perché avendo fede nella Chiesa Cattolica ho fede ai suoi dettami, uno di questi è non masturbarsi, dunque non penso che sia sbagliato. Si basa sulla fede, questo è il mio... Ma quindi tu non ti poni il perché? Cioè non ti poni il perché non devo farlo. Poi, poi nonostante ciò, comunque se non mi masturbato tantissimo, e se non mi masturbato anche oggi, ok, posso dire... Anche ora! Sette volte di fila una volta mi sono masturbato, posso confermare che è una cosa che mi danneggia. A me interessava, eh. Ma vabbè, ok. Ok, veramente io... Sì, sì, sì. Io veramente, guarda, Riccardo, con tutto il rispetto che ho nel cuore per te e per la Chiesa Cattolica, io avevo chiesto a Green di non ficcarmi in una situazione troppo trash, ma lui ovviamente... Ma non è trash. Ma come non è trash? Sto parlando con uno che mi ha detto che si è masturbato sette volte. È onesto, non è trash. Però io però mi sono perso più del discorso. È onesto, non è trash, assolutamente. Come siamo finiti? Anch'io, stiamo parlando dei massimi sistemi. Ma perché voglio capire il suo punto di vista, perché mi interessa realmente... Ecco come sono finiti, perché non ha chiesto a Chiesa. Riccardo è molto bravo. Riccardo non ha un punto di vista, cioè Riccardo ha sicuramente un punto di vista, ma a lui non interessa il suo punto di vista. È interessante, non ha, ma ha sicuramente. Esatto. A lui interessa lo scontro dialettico fino a se stesso, capito? La dice lunga. Perché sa parlare bene. Perché gli piace... Non è che sa parlare, sa mettere in atto alcune anche trappole logiche per poi inchiodarti dal punto di vista del linguaggio. Questo io ho capito di Riccardo, è molto interessante. Ecco. Però... Si, vedi che non hai capito un cazzo. Però a me non... Però a me questa cosa... Guarda, no, ho capito, sì, sì, ma... Caro, invece io ho capito che tu evidentemente forse non sai reggere un discorso con una persona così tanto intelligente, così tanto preparata come me. Forse è questo il motivo. È vero, assolutamente. Però io non ho capito qual è il discorso, spiegamelo. Adesso non stavo parlando con te. Il discorso non c'entravi tu. Ah, scusa, con Jason stai parlando. Il discorso era con Jason riguardante la masturbazione. Ah, sì. Tu ci hai interrotto. Scusa, scusa. Prego, prego. Puoi anche uscire dalla stanza se vuoi. Ti chiedo scusa. No, scherzo, puoi stare, puoi stare, davvero. Grazie. Non vi dicevi, Jason. Se ti dico, guarda, ti posso dire, io credo per sfide che sia la masturbazione e poi lo credo anche... Cioè, sulla mia pelle ho provato che effettivamente mi rende più, più, come si dice, più rabbioso e più pigro. E la pigrizia mi dà fastidio. Sulla pigrizia in realtà è interessante, aspetta, pigro sotto che punto di vista? Sotto il punto di vista della pigrizia, semplicemente, no. Per dire, tipo, dopo che mi faccio una pippa dici, sono scrittore, devo scrivere, faccio una pippa e non ho più voglia di scrivere. Questo intendi? Bravo, bravissimo. Arriva sempre mia madre. Chi è? Chi è? Chi è? E arriva anche mentre si... Non si sa. Ma è la tua mamma? Sì, è ovvio che mia madre è che bussa. Ciao, sto scrivendo dopo, ma... Non mi sembra il tono, onestamente. Tra un quarto d'ora, va bene, tra dieci minuti. Anche perché il terzo comandamento è... Onora al padre e la madre. Onora al padre e la madre, sì, sì, sì. Ma infatti... La stai onorando tu, rispondendo. Infatti io sono molto peccatore, mi masturbo anche, per cui... Io ora inuncio ciò che... Ma il... Inuncio cosa... Mi piace insegnare cosa è giusto e cosa è sbagliato, ok? Allora, in un momento che sono molto intelligente, mi piace sfruttare questa mia intelligenza per insegnare bene, per spiegare bene l'altrina cattolica, per spiegare bene l'altrina cattolica e spiegare come essi siano corretti. Scusami, scusami, una domanda io. Come hai conosciuto, Simo? Cioè, com'è che tu partecipi spesso alle sue live? Ho partecipato tante volte, sì. Ho partecipato a molte live. Come l'hai conosciuto? Cioè, com'è nata questa... L'ho conosciuto io perché è un compagno di classe di una mia compagnia dei superiori. Ah, ok. Ok, quindi amici in comune. E cosa fai tu nella vita? L'ho intervistato ai tempi quando... Un matematico. Sono un matematico. Sono un ricercatore matematico. Ah, ok, perfetto. Quello dell'Italia Sotto. Sì, sì, sì. Lui è di estrema destra, credo. No, vabbè, sì. Mi spiace. Ognuno ha le sue... Le sue... Ma... Un ricercatore matematico dove? A casa mia. Sono un ricercatore indipendente. Non lavoro in nessuna università. Ok. Ma... L'esatto sto lavorando... Scusa, Genio, tu per caso pensi che... Cioè, secondo te Alessandro De Deciano è una persona intelligente? Più della media. Più della media, sicuramente. No. No. Poi, chiaramente, non ho dimostrazione di fa. Magari sì. Però non mi sembra. Non per te, perché non mi pare di aver mai conosciuto una persona che possa competere con me in quanta intelligenza. L'unica persona che può un attimino darmi fastidio è Maria Sofia. È l'unica persona che può avvicinarsi a me. Come si fa una cara di intelligenza? Cioè, come si fa a dire che tu sei intelligente di un altro? Cioè, qual è l'argomento? È una mia sensazione. Cioè, non ne ho idea. Io valuto l'intelligenza delle persone per quanto riescono a rispondere logicamente ai miei discorsi. Quindi è una cosa soggettiva. Cioè, tu ti riferis più intelligente di un'altra persona, ma non hai qualcosa di oggettivo per dire lo sono o quello è più intelligente di. Come ho detto prima, non posso dimostrarlo. Bravissimo come ho detto prima, infatti non posso dimostrarlo. È la mia sensazione. Allora, io non... E si basa su come vedete di fatto. Ok, ma dimostralo. Però io sono in difficoltà. Ti sta massacrando. Se ti ho detto che ho una nuova dimostrazione, come faccio dimostrarlo? Non capisco se tu stai interpretando un personaggio... No, è serio, è serio. Ok. Non capisci. Ti vedi, a parte da non capisci, no? Eh sì. Ho appena detto che non sei abbastanza intelligente per avere i miei livelli, dunque giustamente non capisci. Tutto torna. Una cosa con cui ho grande... No, scherzo, non voglio essere cattivo. No, no, ma figurati, io una cosa con cui ho grande pace e familiarità sono i miei limiti. Quindi io non capisco questa cosa. Quindi, perché se tu fai il personaggio... Giusto, fai il personaggio a dire. Se tu... Cioè, non... No, è serio. Fiditi di me, è serio. Non è un troll. Non è un troll. Però mi hai detto che fai il ricercatore a casa tua. Che dice un po' come impresso a se stesso. No, ha fatto anche dei libri su Amazon. E ti stupisci, non capisco. Cioè, è come se ti dicessi, guarda... No, però ecco... Alcune persone imboccano i delfini, ok? Tu però non sei un cazzo di botanica, no, di botanica, di zoologia. E ti stupiresti, perché sarebbe una cosa stupida a stupirsi. Non sei un cazzo di matematica? Capisci che non... Non ha senso che tu ti scupirsi che è una cosa che non conosci. No, però, lo so, devi dimostrare che sei più intelligente di Alessandro. Cioè, ci saranno dei punti cardini. E adesso ho un'ulteriore cosa insensata. Ti sei stupito per il fatto che faccio un ricercatore a casa mia? Nonostante non sei un cazzo di ricerca e non sei un cazzo di matematica. Perché ti sei stupito di ciò? Capisci che è insensato, Giò? Allora, a parte il fatto che tu parti da un presupposto sbagliato. Cioè, tu non sai quanto io sappia di ricerca e quanto io sappia di matematica. Bravissimo, bravissimo. Questo è vero. Lo intuivo e basta. Lo intuivo e basta. Bravissimo. Allora, vedi, entrambi i peccati della stessa cosa. Esatto. No, ma al netto di questo, quello che intendo dire io, è che poteva essere un pochino fraintendibile. Nel momento in cui tu dici, cosa fai? Faccio un ricercatore. Ovviamente, per convenzione, una persona pensa che tu abbia un dottorato di ricerca, che tu faccia un ricercatore in università. Capito? Tutto qua. Ok, sì, questo è trabbono. È vero, è vero. Può dare un po' di sospetto a fare un ricercatore a casa propria. Tutto qua. Vero? Vero, trabbono. Ti faccio un esempio. Io sono psicologo. Ma subito dopo, attenzione, subito dopo, subito dopo, subito dopo, subito dopo hai detto che sono un ricercatore indipendente. Dunque, hai d'intendere che non c'era nessuna... No, no, sì, è vero. No, dopo, quando te l'ho chiesto, diciamo, a fronte della mia domanda, poi me l'hai detto. Ma io, infatti, non penso ci fosse male. No, te l'ho detto subito dopo. Cioè, non penso che tu abbia detto così per millantare che eri un ricercatore, nel senso... Poi io credo molto anche nello studio individuale, assolutamente. Cioè, ci mancherebbe altro. Ma quindi, se io dico che sono un muratore e lo sono perché... Tu non puoi sapere se non lo sono. Perché hai tirato su un muretto a casa tua. Ma stiamo parlando di questa cosa. Giusto. Il discorso è questo. Cioè, io dico, come tu dici che sei un idraulico... Allora, bisogna partire dalla definizione. È una sorta di sillogismo un po' complicato. Comunque, genio, il punto è, per stringere anche i tempi, perché non era questo il mio obiettivo. Masturbarsi fa bene. A parte quello. È stato il nostro argomento di casa chiesa per un anno intero. Proprio oggi, una persona mi ha scritto... Ah, invece con male. No, nei DM, una persona nota, mi ha scritto, guarda, io non mi masturbo da un bel po', ti consiglio di provare anche tu, perché vedrai subito dei miglioramenti. Ho detto, micchia, come mai? E ho detto, allora, da oggi, per una settimana... Non ti masturbi? No. Che vuol dire neanche rapporti sessuali? Eh, boh, quello stavo ragionando. Ma che cassa dire? Ma che cosa vuol dire? Non lo so, perché, a quanto pare... Ma è no che non puoi comunque... Ah, no, no, aspetta, aspetta, no, no, no. Comunque, ragazzi, voi non avete idea di quante tipi mi vogliono scopare, è vero, è vero, è vero. E di quante volte io le rifiuti. No, 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 no. Anche nello yoga, per esempio. Però fare sesso non è masturbarsi. Eh, no, eh, no. Cioè, se no avremmo risolto i problemi degli uomini nel mondo, cioè, voglio dire... No, però è vero, perché io sapevo... Di molti uomini. Perché mi interessava, perché lui mi ha detto che il motivo per cui non ci si masturba per la chiesa è perché così è stato deciso. Noi a catechismo, ovviamente, adolescenti, la prima cosa che chiede al dono è perché non posso masturbarlo, cioè, perché non potrei farlo, cioè, la cosa più divertente, perché non possiamo... Non ho fatto catechismo, però ci credo. Eh, va, è stato un... un anno intero ci ha tenuto questa roba al dono. Il fatto è questo, alcune verità sono molto complesse da dimostrare, anche solo argomentare. Sì! Non voglio dirlo io! No! Per questo esiste la fede dei nini. Non è così, no? Stavo pensando a come metterla giù, bene, la battuta, volevo dire esattamente questo. No! Però, alcune verità sono un po' complesse da dimostrare, capisci che... Ti passa la voglia di procreare, cioè, più ti masturbi, meno voglia hai di cercare qualcuno con cui fare sesso. E quindi non procrei. Ah, vabbè, certo. Per quello, la chiesa... Anche quello può essere... Non masturbarti, vogliamo fare un discorso serio, tutti... Trova e fai. Tutti i dettami della chiesa cattolica, ma tutti i dettami di qualsiasi religione, hanno delle fondamenta in degli insegnamenti di vita logici che servivano per il benessere della società. Esatto. È ovvio, nel senso... Sei d'accordo, genio? È tutto, è quella cosa che hai appena detto, è in concorda con quel documento secondo il quale i dettami della chiesa cattolica sono insiti nel cuore di ogni uomo, no? Sì, certo. L'affermazione secondo il quale è una cosa che tutti gli uomini sanno per il bene della società si può tradurre come sono informazioni insite nel cuore di ogni uomo. Però secondo me non bisogna sovvertire il rapporto fra struttura e sovrastruttura, che è quello che si rischia di fare. Cioè non è che tutti i dettami della chiesa cattolica sono insiti nel cuore dell'uomo, ma è la chiesa cattolica che ha capito quali dettami erano insiti nel cuore dell'uomo e ne ha usati alcuni per creare un'istituzione che poi è arrivata fino ad oggi. Così come in altre parti del mondo... E questo lo dici tu. Invece i dettami della chiesa cattolica sono insiti nell'uomo, fine. Forse sarebbe così, no? Senti un attimo, Genio, sì, è meglio così. Senti un attimo, tu cosa ne pensavi? Tu sei d'accordo con lui sulla questione dell'otto per mille? Come si chiama? Otto per mille? Uh, otto per mille, sì, infatti volevo dire anch'io. Tu dicevi, per provocare Don Ambrogio, ma magari volevi dare una provocazione all'intera chiesa cattolica. A questo punto è meglio che Don Ambrogio faccia i soldi, così la chiesa non chiede l'otto per mille, no? Se bisogna pensare i soldi. Effettivamente ho pensato che invece se bisogna pensare i soldi, allora sarebbe meglio per la chiesa sia che Don Ambrogio diventi ricco che prenda l'otto per mille, no? Così doppio guadagno, non credi? È vero, è logico, è innegabile. Però è sbagliata dicamente. Perché? No, vabbè, non è sbagliata. Perché? C'è in più aggiungi una cosa. Cioè, allora, anche lì, chiariamo. Ma in quale principio la chiesa cattolica deve essere povera? Dove si è scritto, qual è il dogma della chiesa cattolica che afferma che essa deve essere povera? Non mi pare che non ci sia scritto. Dove è scritto che deve essere ricca? Non lo so, magari c'è scritto da qualche parte, ma il fatto che non ci sia scritto che debba essere ricca non implica che debba essere ricca. Non implica che non possa essere ricca. No, ma... Capisci? Attenzione. Allora, adesso facciamo un punto, inquadriamo la situazione. Anzi, diciamo che la ricchezza, i soldi sono uno strumento, no? Sono uno strumento molto potente. Se in mano ha un ente benevolo, è giusto che ce l'abbia, questo è strumento potente. La chiesa cattolica è, per Antonio Masi, un ente benevolo. Dunque, deve essere il problema della chiesa cattolica. Non è che è ricca, perché non è abbastanza ricca. Dovrebbe essere più. In quanto ente è massimamente benevolo. Capisci? No, genio, ascolta. Io non voglio aprire il discorso della povertà, nel senso anche del messaggio dello spogliarsi dei beni terreni, eccetera, eccetera. Ti spiego qual era, diciamo, il terreno di confronto con Don Ambrogio. La mia provocazione era, secondo me, visto che per esempio Don Ambrogio passa tanto tempo su TikTok, così come tanti altri sacerdoti, ho notato questa tendenza. E visto che, dal mio punto di vista, non c'è nulla di male, nonostante queste persone, questi giovani sacerdoti, vengano spesso criticati per questo, mi dico, perché non unire l'utile al dilettevole e quindi trovare un modo di monetizzare questo passatempo? Magari attraverso le donazioni, magari attraverso la pubblicità. E Don Ambrogio si è infervorato e ha detto, no, noi non ne abbiamo bisogno. Ecco, nel momento in cui lui dice non abbiamo bisogno, lì io chiaramente gli ho detto, certo, non avete bisogno, perché avete l'otto per mille, che è una cosa vera. Quindi era all'interno di questo contesto. Poi se tu mi chiedi, tu personalmente come pubblico, privato cittadino, sei d'accordo che l'otto per mille di una parte delle tue tasse dell'IRPEF venga destinato a confessioni religiose? Io, come privato cittadino, ti rispondo, no, non sono d'accordo. Poi, e infatti lo do allo Stato nel mio caso, secondo me non dovrebbe neanche esserci l'opzione, perché nel suo privato ognuno, senza che si tratti dell'otto per mille, può prendere e donare alla sua confessione religiosa quello che vuole, perché io sono per la libertà religiosa, per la libertà di diritto. Però l'opzione informa la persona. Nonostante io sia ateo, io trovo scandaloso e vergognoso che una grande città come Milano non abbia una moschea. È assurda questa cosa qua, è assurda. Forse, per quanto fosse per me, forse è perché i milanesi capiscono che la moschea è un luogo di culto sbagliato. Però non è giusto che una città, che ormai è una metropoli europea, non abbia una moschea degna di questo nome, una bella moschea. Adesso siamo stati in India. Scusa, ma Alessandro, Alessandro, scusate un attimo. Sì, assolutamente, da quel punto di vista di convivenza delle regioni. Tu sei per togliere il crocifisso dalle scuole? Sì. Questi sono temi che onestamente non mi appassionano perché sono solo divisivi, inutilmente divisivi. Cioè a me chi se ne frega. Il crocifisso... Allora, se me lo avessi chiesto quando andavo a liceo, avevo 16 anni, te l'avevo detto sì, voglio toglierlo. Ora come ora, effettivamente, è un simbolo che in qualche modo rappresenta le nostre radici. Però se le radici di Italia non è... È stato laico. Eh, quindi tecnicamente non vive, però è chiaro. Beh, ma le radici della cultura occidentale, cioè voglio dire, si fonda... Come tante altre cose, cioè anche l'illuminismo. Io che sono musulmano, magari... Io vedo il crocifisso da cristiano e mi dà serenità in qualche modo, mi dà forza, no? Io magari musulmano voglio vedere un qualcosa che dia forza anche a me. Perché non posso vederlo? Allora, io ti dico... Ma non metti nessuno, c'è che non puoi vederlo, eh, effettivamente, eh. Mettiamo qualsiasi simbolo. Se tu mi chiedi, se da zero dovessi decidere in una scuola c'erano simboli religiosi, ti direi di no, non dovrebbero essere simboli religiosi. Siccome è una classe dovrebbe, in base agli allunni che ci sono... Mettere tutti quanti. Mettere un Buddha, un Mavetto... Questa è la cosa più intelligente, così chiunque può rivedere il rischio e il degenio. Oppure semplicemente dovremmo lasciare le religioni fuori dalla scuola. Eh, esatto. E quindi è togliamo il crucifisso, vedi? Cioè, diventa quello. Dovrebbe essere una religione... Però, con il seno di poi, sapendo che il cristianismo è la cosa corretta, bisognerebbe mettere la religione nella scuola e solo il cattolicesimo, pensa un po'. No, ma allora... Il fatto è che tutti quanti... Attenzione, non sono lasciato di parlare. Il fatto è che tutti quanti, anche le persone, gli antichi legislatori, capivano che il cattolicesimo è una cosa corretta. E' questo che l'hanno messo nella scuola. Abbiamo capito che tu credi nel cattolicesimo e nei suoi dogmi. E questa cosa... No, io penso che anche voi ci credete. E mentite dicendo che non vi credete. Ma fai bene a pensarlo. Questa cosa ti rende felice? Mi rende indifferente, veramente. Cioè, tu non sei felice? Nella fede non hai trovato felicità? Sono serio, eh? Quando dicevi questa cosa non intendevi la fede. Intendevi la fede, sì. Certo, certo, certo. Assolutamente. La fede, sì. Allora, ci sta. È ovvio che... Cioè, è normale che se tu credi davvero nel cattolicesimo, tu creda anche che nel cuore di ogni uomo ci siano i dogmi del cattolicesimo. E per me va benissimo che tu lo creda. Cioè, nel senso... Certo, certo. Ottimo. Mi fa piacere. Io mi auguro che anche tu... E secondo me tu sei molto più prete di Don Ambrogio. Cioè, anche come nel modo in cui ti poni, capito? Vuoi fare il prete? Sì, certo. Perché non l'hai fatto? Grande. Grande. Sono troppo rapato, semplicemente. Sono troppo rapato. Poi sono... No, non ho la vocazione del prete, assolutamente. Sono la vocazione del... Che ne so, magari del politico, che ne so. Sono molto... Ma tu hai ancora quelle idee politiche che mi dicevi anni fa? Eh, le sto revalutando, le sto revalutando. Cioè, mi è piaciuto l'idea dell'impero, proprio di espandermi. Uh, scusate un attimo, se mi posso permettere, vorrei buttare un po' di merda su Blur, così lui fa la reaction e mi rende famoso, ok? Allora, Blur è un coglione, Blur è un coglione. No, così lui fa la reaction e mi rende famoso, ok? Grande. Non continuate pure. Ehm... Ok. Ma cosa vuol dire? Va bene. Va bene, dai. Ciao, Blur. Va bene, Riccardo, è stato veramente un piacere. Si sta reattando, già che ci siamo. Grazie. Grazie per essere passato, non l'hai molto massacrato. Ma no, perché alla fine andiamo d'accordo io, Riccardo, secondo me. A me è piaciuto questo controllo. Ci sono state delle carezze. Va bene, va bene. Ciao ragazzi, allora, buona serata. Grazie. Ciao, Riccardo, grazie. Ciao, ciao, ciao. Buona serata, ciao. Ciao, ciao, ciao. Per cosa stava la Jay? Eh, Riccardo, Jay. Il secondo nome, forse. Sì. Homer Simpson, che è Jay. Esatto, esatto. Io veramente... Io ti odio, cazzo. Ma perché? Un giorno, poi te lo spiego. Ti ha dato fastidio questo confronto? No, ma figurati, no. A me il confronto non dà mai fastidio. Tanto le lacrime scendono. Sì, ma perché io, cioè, non... Non lo so, niente. Cosa? Apriti. Diciamo, però, provo a fare con una, semplicemente una frase di al massimo dieci parole e devi esprimere quello che vuoi dire senza poi aggiungere nient'altro. Non si può esprimere perché non voglio urtare la sensibilità di nessuno. Erano tredici. Sei sicuro? Non si può esprimere perché non voglio urtare la sensibilità di nessuno. Dodici, cacchiolina! Sei mortissimo. Però secondo me la... Tu sai fare quella roba? Secondo me la chat ha capito. Cioè, ha capito anche dal modo in cui mi ponevo stasera da come mi ponevo quando... Dittemi una frase che vi dico quante parole ha. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Perché lo fai parlare con gente problematica? Undici. Perché lo fai parlare con gente problematica? Sette. Apre un cazzo. No, no, no. Rifammi un altro. Ma da undici a sette... Rifammi un altro, rifammi un altro. Alessandro lo dico io al posto tuo. Bigottismo in persona. No, ma no, ma figurati. Riccardo è un bravissimo ragazzo, anzi, secondo me. Posto tuo bigottismo in persona. Dieci, ma no, non ce l'hai. Non ce l'hai per nulla. Ma che poi con tutto il tempo che ti prendi... Però si fa le calcoli. Le moltiplicazioni sono lunghe. Di quelle basi, tipo 8 per 8. Tipo 55 per 82. No, era sempre... Per poco, cacchio. Tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Quest'amore so che sparirà. Ora non mi muovo, ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na-na-na. Ma non posso fare per le cose, sì, quelle che dici. Ma come possiamo fare se pensiamo... Come tanti... ... Grazie.